Dove c'è l'amore non è la famiglia dove c'è uno scambio di sesso uomo-donna, la famiglia è dove c'è amore. Purtroppo poi sono tutti strani perché per esempio quando si parla che il matrimonio lo si fa perché come obiettivo c'è la procreazione, vorrebbe dire quindi vietarlo all'uomo e donna di 60 anni perché ormai non possono più fare figli. Cioè è veramente assurdo che nel 2014 esistano ancora delle situazioni in cui la difesa dei diritti civili deve essere fatta soltanto da una parte. Ritengo che però pian piano nel mondo si sta andando avanti nella direzione giusta che è quella di capire effettivamente che esistono tante realtà, tante cose vere che purtroppo vengono discriminate fino ad oggi. L'importante è far capire alle persone che la famiglia è dove c'è l'amore e non dove c'è il sesso. Grazie. Grazie. Grazie.